Musica Fabio Fratesi, ultimi ritocchi a questo circuito, a questo anello, veramente imponente, anche tribune nuove Quali sono le novità salienti di questa edizione? Le novità sono tante, da partire dalla corsa dei cavalli qua su, le abbiamo già fatte lo scorso anno e le replicheremo Ma sono tante, ci saranno tantissimi antichi mestieri, tantissimi artigiani che verranno a esporre all'interno della manifestazione Quindi vedremo, faccio un esempio, da chi farà il latte, farà le mozzarella direttamente qui e le farà assaggiare Vedremo il vasaio, vedremo tantissime botteghe, ci sarà un falconiere, dopo facciamo vedere anche una piccola chicca Ci sarà per esempio, adesso te la accendo, un campo santo, abbiamo allestito Quindi la pinetta diventerà veramente una ricostruzione medievale più fedele possibile E quindi giù ci sarà il villaggio, quello che è, e quassù nella zona alta il campo di gara, le giostre Tutte le giostre, il campo di gara, il famoso paio delle contrade viene giudicato qui con le varie sfide Sotto ci sarà quest'anno un'altra sorpresa che è un'altra area spettacoli Quindi la gente potrà decidere se seguire gli spettacoli delle giostre qui O gli spettacoli dei vari artisti nell'area spettacoli sotto Questa sera ci sarà un momento anche proprio storico di ricostruzione Che avrà anche un momento particolarmente interessante ed emozionante Questa sera ci sarà la conferenza, la conferenza che parlerà dei bianchi e della misericordia È il fulcro dove tutta questa cosa cresce Il fulcro, faccio un cappello e Fano, lasciatemelo dire Se Fano, perché Fano ha delle origini medievali Io non mi stancherò mai di dirlo, non ci siamo inventati niente, non è una sorta medievale Ma noi ricostruiamo la storia di Fano E questa conferenza stasera è il fulcro da cui nasce tutto quello che noi costruiamo Faccio un esempio, la fiera ha origini medievali del Stato Detto Tanto di Fano ha di medievale quanto la romanità Che non vogliamo lasciare in secondo piano Ma ha la pari dignità della romanità Quindi secondo me, con questi due pilastri possiamo costruire una grande fata